Vedete l'immagine che vi appare? Sì. È l'ennesima avventura della signora americana. Sì. Sono tornata qui a Rimini ma non so esattamente perché. In questo nuovo programma chiamato The Most Dangerous Things You Can Do Every Day in Italy. Ok. Vuol dirci signora quale modello indossa, come è chiamato il modello di rollerblade che lei indossa? Non mi ricordo. Si chiama Crazy Creek. Crazy Creek. Sì. Allora ci dia un saggio della sua abilità motoria. Veramente io non ho molto abilità motoria però proverò il mio meglio. Però io non ho fatto rollerblading da molti anni. Quindi forse è consigliabile che lei mi dia una mano. Sì. Forse io avrò bisogno di un po' di aiuto. Oddio. Ok. Ecco. Deve solo fare da A a B e da B a C. Sì. Ok. Ok. Giro. Ok. Dammi la mano. Perché veramente questo... C'è un po' di inclino qui e avrò un po' di difficoltà a fermarmi. Perché veramente rollerblading non è quello che io faccio ogni giorno a New York. Cioè significa che lei non è stata creata per questo, per fare questo. No. Forse per leggere, scrivere, gestire un'impresa però probabilmente no. Assolutamente no per fare rollerblading. Però facciamo un po' di più? Però sempre calmo la mano perché altrimenti mi caderò perché. Vuole fumare anche una sigaretta mentre fa questo? Forse dopo. Adesso può farci una dimostrazione senza mani, without help. Ok. Vediamo. Dichiariamo conclusa questa esperienza. Un applauso alla signora. Grazie. 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 Grazie.